Pesaro capitale della cultura ritrova Palazzo Perticari Arte performativa mondiale a Pesaro con Marina Abramovic Contratti scaduti da tre anni scendono in piazza i lavoratori della ristorazione collettiva Monbaroccio e rischio quorum Petrucci chiama le urne per scongiurare il commissariamento VL è ufficiale Sacripanti è il nuovo allenatore Una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV Ben ritrovati al nostro appuntamento informativo con Rossini News Telegiornale di martedì 4 giugno che apriamo questa sera occupandoci di alcune tematiche legate a Pesaro capitale della cultura 2024 Una capitale che ieri ha cominciato ad aprire alle visite guidate un palazzo storico della città Una capitale che invece da domani porterà gli amanti dell'arte in una performance inedita a livello mondiale Due aspetti differenti cominciamo dal primo quello di palazzo Perticari Signoretti che si apre dunque alle visite alla città Pesaro capitale della cultura si arricchisce di un ritrovato palazzo storico e di uno straordinario scrigno d'arte A due anni dal completamento della sua riqualificazione Palazzo Perticari Signoretti si apre infatti alle visite guidate fra le sue stanze affrescate di corso 11 settembre Lunedì sera la visita inaugurale di un programma gratuito e su prenotazione che si protrarrà fino al 28 settembre Dopo un lungo percorso per il recupero del palazzo che nel 2008 quando io l'ho preso era diroccato e reso inagibile Finalmente dopo il recupero si sono installate le mie collezioni sia di dipinti antichi che di ceramiche Oggi inauguriamo queste sale espositive dedicate a Costanza Monti C'è stata una conferenza dove si è fatto un approfondimento storico su questa donna, giovane donna che è venuta a Pesaro, sposa di Giulio Perticari e ora siamo alla visita, alla visita della galleria e poi della biblioteca d'arte specialistica in storia appunto dell'arte con più di 50.000 volumi catalogati e inseriti sul sistema bibliotecario nazionale SBN Visita inaugurale che è stata preceduta da una conferenza a Palazzo Montagna Antaldi coordinata dai professori Riccardo Paolo Guccioni e Anna Maria Ambrosini Massari Salvatore Giannella, Gaetano Gramaglia e Maria Maddalena Paolini Fra i punti focali della conversazione la figura di Costanza Monti moglie di Giulio Perticari, figura simbolo dell'Ottocento di emancipazione femminile che è al centro delle stanze del primo piano del palazzo un palazzo che accoglie ora la straordinaria quadreria di Franco Signoretti con opere della pittura italiana che spaziano dal 400 all'Ottocento incluse nella visita anche la biblioteca d'arte Signoretti con i preziosi 50.000 volumi che dominano il secondo piano un palazzo che ora dunque diventa un luogo museale aperto alla città come nei desideri del suo mecenate Una giornata evidentemente molto importante e molto emozionante c'è stata una grande presenza di pubblico pesarese ed è stato veramente emozionante perché tutti si sono complimentati per questa cosa realizzata e devo dire sono anch'io molto contento e orgoglioso di come la giornata si è dimostrata essere interessante Dall'arte più tradizionale passiamo all'arte performativa che si fonda con la tecnologia, quella di Marina Abramovic che arriva in prima nazionale a Pesaro, capitale della cultura è una grande onore di essere invitata a Pesaro In un video messaggio proiettato al centro artivisivo e pescheria Marina Abramovic presenta The Life opera immersiva che la stessa artista della performance di fama planetaria definisce il suo primo esperimento nell'utilizzo della tecnologia finalizzata ad ampliare l'idea di come le arti performative possano essere viste in futuro se l'artista non è più presente The Life è un'opera immersiva che dal 5 al 18 giugno sarà sperimentabile al centro artivisivo e pescheria alzando il livello di Pesaro capitale della cultura italiana attraverso un evento di rilevanza artistica mondiale Pescheria dove oggi si è tenuto un'anteprima dell'evento immersivo fruibile attraverso un visore digitale come spiegato dal regista Todd Eckert presidente e fondazione di Team Drum Il pubblico indosserà un dispositivo che è la prima volta che verrà mostrato qui in Italia in realtà è proprio la prima volta che verrà utilizzato in Italia e in realtà quello che ci interessa non è la tecnologia ma quello che siamo riusciti ad ottenere con la tecnologia stessa perché avremo Marina che si troverà nel centro della stanza e sarà visionabile proprio a 360 gradi e quindi è proprio la performance che ci interessa di poter trasmettere al pubblico quindi quello che il pubblico potrà aspettarsi è semplicemente di vedere una cosa che non ha mai visto prima The Life è il primo evento immersivo di arte performativa in realtà mista il visore per la realtà aumentata sviluppa la presenza dell'ologramma di Marina Abramovic trascendendo la sua assenza fisica un'opera che riflette sul potere dell'arte come forza non tangibile Una performance che propone alla città una grande riflessione sulla presenza del corpo ma soprattutto ci consente di ragionare sulla relazione tra natura, arte e tecnologia che è il tema proprio di Pesaro, capitale italiana della cultura quindi un grande sogno quello di avere un artista della portata di Abramovic a Pesaro ma soprattutto l'occasione per poter fare anche un bilancio di questi sei mesi di capitale della cultura, una capitale che come sapete è costellata di eventi che spaziano tra diversi linguaggi espressivi e anche della comunicazione sociale È un lavoro di significato profondo che ha a che fare con la connessione umana ha a che fare con la presenza, con l'assenza ci pone anche nuovi interrogativi, magari anche qualche soluzione rispetto anche ai periodi, pensiamo ai due anni della pandemia quindi allo sfilassamento dei rapporti ma anche alla necessità di riconnetterli con e senza l'apporto del digitale bisogna quindi la presenza o l'assenza ma soprattutto è anche una grande occasione per riflettere sulle relazioni umane in questi giorni in maniera completa, compreso tanto il lavoro di backstage degli episodi precedenti da Parigi a Londra a Berlino a Los Angeles che Marina Abramo ci ha tenuto prima di Pesaro ora in questa versione più completa c'è la possibilità di percepire tutto il senso dell'esperienza fino al 18 giugno quando sarà fisicamente con noi Marina Abramovic al Teatro Rossini per incontrare assieme al curatore il pubblico ed entrare quindi anche fisicamente nella città e nell'incontro con le persone Da tre anni senza rinnovo di contratto di lavoro sono i dipendenti della ristorazione collettiva che oggi sono scesi in piazza a Pesaro Basta ricatti, firmate i contratti Basta ricatti, firmate i contratti Slogan a corredo di un 4 giugno di sciopero per i lavoratori di una quindicina di imprese della ristorazione collettiva, commerciale e del turismo riunitesi oggi di fronte alla sede pesarese di Confindustria Contratti scaduti e reclamati da tre anni con l'aggravante che ora le imprese della ristorazione collettiva associate ad Anir e Angem minacciano chi vuole arrivare ad un rinnovo in grado di garantire condizioni salariali dignitose alle lavoratrici e ai lavoratori del settore Sindacati che poi sono stati ricevuti da Confindustria per intraprendere un percorso di dignità verso queste categorie lavorative Le due associazioni hanno deciso di fidare il sindacato che intende portare avanti la contrattazione collettiva Questi lavoratori e lavoratrici sono senza contratto da più di tre anni con l'inflazione che sta avendo livelli fuori portata Questi lavoratori sono disagiati perché a volte hanno poche ore d'estate non lavorano e ovviamente con gli stipendi che sono bassi poi ci si lamenta se non si trova forza lavoro Abbiamo portato all'associazione datoriale i motivi della nostra protesta Ricordiamo che sono lavoratori poveri, lavoratori degli appalti lavoratori che hanno un grosso problema di carattere salariale Confindustria si è fatta carico delle nostre istanze e cercherà di far capire a Danier, associazione datoriale a loro associata che è possibile che è doveroso sottoscrivere il contratto Noi abbiamo fatto presente tutte le criticità di un contratto scaduto da tre anni di un'associazione che è stata creata ad hoc che è uscita fuori dalla trattativa nazionale tanto è vero, sciopero era proprio con Anir, Confindustria e Angem di questo gruppo che è uscito fuori e dove ha raccolto alcune aziende che non vogliono arrivare alla sottoscrizione del contratto Abbiamo fatto presente che la maggior parte di questi lavoratori sono lavoratori part time che fanno il proprio lavoro e il servizio che è utile e sociale menze, scolastiche, bidelle e quant'altro e non si può portarle ancora dopo tre anni a non rinnovare il contratto Va fatto, si sono presi l'impegno di chiamare le associazioni nazionali per arrivare a una conclusione finale del rinnovo del contratto perché si sono resi benissimo conto che è una realtà che oltre che aiuta nel sociale è una realtà che non si può tenere ancora per tre anni con un contratto scaduto sia la parte economica che la parte normativa Contratto! 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 Ed ora la politica, ci occupiamo della nostra marcia d'avvicinamento alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno e parliamo di uno dei 14 comuni della provincia di Pesaro Urbino che correranno in solitaria come il comune di Monbaroccio che ha bisogno del quorum per rendere valida la elezione e scongiurare il commissariamento come ci spiega ai nostri microfoni il candidato sindaco al terzo mandato Emanuele Petrucci Una sfida molto particolare questa volta abituati a tre liste negli ultimi vent'anni questa volta siamo da soli a correre ma da soli in maniera fittizia anche perché avremo un avversario importante che è quello del quorum quello dell'assenteismo e purtroppo i dati dell'assenteismo sono sempre più dilaganti sempre più ampi sempre più preoccupanti dal mio punto di vista dovremo raggiungere la legge ci impone di raggiungere almeno il 40,01% degli aventi diritto al voto e per Monbaroccio sono circa 650 votanti una volta raggiunto quel 40% il 50% dovrà verificare delle schede valide e quindi il quorum è doppio uno dentro l'altro che cosa succederà a Monbaroccio nel momento in cui non si dovesse raggiungere quel quorum? purtroppo si passerà da un amministrazione comunale da un sindaco, una giunta, un consiglio comunale a un commissario prefettizio e questo sarebbe la fine per il Comune di Monbaroccio sia nell'ottica dei lavori fatti quindi tutto quello che sono la pregettazione i cantieri tutto quello che è l'obiettivo e 17 milioni da cantierare e mettere a terra saranno nelle mani di un commissario che sarà ovviamente nel rispetto della prefettura di chi lo nominerà una persona che non potrà presenziare su Monbaroccio non si potrà confrontare con i cittadini quindi invito i miei concittadini al voto sia per dare una risposta a tutto quello che è stato fatto e dare continuità al nostro lavoro ma anche per rispondere a quella che è un'esigenza di un territorio il sindaco, non perché sono io ma perché domani ci sarà qualcun altro ma un sindaco di un territorio il primo rappresentante dello Stato il primo riferimento per il cittadino quella figura che dà risposta al territorio e ai suoi concittadini laddove i cittadini si rivolgono per qualsiasi cosa penso ultimamente alla fibra piuttosto che alla sanità piuttosto che a una miriade di quelle che sono le cose da cui il cittadino necessita e cui l'amministrazione comunale e deve dar risposta a prescindere dall'ente di competenza perché rispondiamo per la provincia rispondiamo per la regione rispondiamo per il ministero rispondiamo a volte anche per l'Europa ma non può venire meno quel baluardo io sono dell'idea che nel momento in cui venissero meno i sindaci nel momento in cui venissero meno questi baluardi dei territori le loro amministrazioni verrebbe meno anche il rapporto del cittadino con la politica e quindi quei numeri che sono sempre più dilaganti dall'assenteismo verrebbero dirompenti e questa è la più grande preoccupazione che ho in questo momento In tutto questo in che contesto si presenta Monbaroccio in questi giorni precedenti al voto? Ci siamo presentati ai nostri elettori stiamo girando sul territorio stiamo facendo quelli che sono gli incontri nei centri civici piuttosto che nelle assemblee pubbliche ma la cosa che mi preoccupa di più è che purtroppo mi fa vivere la politica in suo modo più subdolo e che c'è qualcuno che sta lavorando sul territorio per portare la gente a non votare quindi oltre alla difficoltà che c'è già ed è insita nel raggiungimento del quorum c'è qualcuno che ha quell'obiettivo e purtroppo lo sta facendo non solo per voler male a me o a Monbaroccio ma per cercare un percorso successivo tornare a quel percorso di fusione per incorporazione che loro vorrebbero e come? raggiungendo una volta portato il commissario prefettizio con 200 firme depositate portare di nuovo al percorso referendario e questo lo vogliamo non solo evitare ma completamente scongiurare alla scuola primaria Rodari di Viarecchi a Pesero sono state segnalate preoccupanti infiltrazioni con due aule chiuse in via precauzionale e i bambini trasferiti in altri spazi della scuola una situazione che necessita un intervento di riparazione del tetto più volte rimandato l'immagine che vi mostriamo ora invece è stata postata oggi sui social da Giorgia pesarese che ha denunciato di essere investita alle 7.50 da un'auto pirata in via Guerini a Muraglia la segnalazione ha invocato testimonia alla ricerca di una Dacia Sandero Marrone che è stata successivamente rintracciata dalla polizia locale il responsabile sarebbe un cinquantenne la Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Fano viene riconosciuta come eccellenza a livello europeo per la gestione dell'ictus ischemico la struttura infatti per la prima volta in riferimento all'ultimo quadrimestre 2023 è stata individuata come centro diamond nell'ambito del premio internazionale ESO Angel Award un'attestazione di qualità nell'assistenza e nella cura delle persone colpite da ictus malattia cerebrovascolare che rappresenta la seconda causa di morte e la prima causa di invalidità a livello mondiale la premiazione è avvenuta durante il decimo congresso europeo sull'ictus tenutosi a Basilea le farmacie comunali di Aspes si allargano dal pesarese alla vicina cattolica oggi infatti è stata inaugurata la storica farmacia comunale nella nuova sede di Via del Prete Angolo Via Fiume un passo di rinnovamento per la più antica farmacia della città in procinto di compiere 60 anni ed ora parliamo di un poster per la pace il concorso promosso dai Lions Pesaro Club della Rovere giunto alla 36esima edizione Osate sognare è un tema che si ammanta di speranza quello scelto per l'edizione 2023-2024 del concorso Lions un poster per la pace giunto alla 36esima edizione quarto decennio di un service internazionale che il Lions Club Pesaro della Rovere propone agli studenti delle scuole primarie di secondo grado chiamati a dipingere la loro idea di pace la commissione Lions ha valutato quest'anno 300 opere proveniente da 14 classi degli istituti comprensivi pesaresi è un tema molto importante soprattutto come ho detto in questo momento che il mondo va sembra che vada in una certa direzione quindi coltivare, diffondere la cultura della pace è molto importante siamo soddisfatti i premi elaborati erano ottimi erano bei lavori ad essere premiati nella sala Righetti del Comune di Pesaro Maria Giulia Lucchetta, Viola Bellinazza e Gabriele Rebonato per l'Istituto Gaudiano Angelica Mazza, Greta Vitali, Matilde Rossini per l'Istituto Leopardi Elice Ubaldini, Benedetta Gorga e Angelica De Luca per l'Istituto Manzoni elaborati d'arte che per i professori hanno mosso le coscienze degli alunni coinvolti su un tema tanto attuale e delicato è stata un'ulteriore occasione di stimolo per i ragazzi prima che, diciamo, per cimentarsi proprio graficamente nell'elaborato proprio per riflettere sul tema abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi proprio su questa tematica e ognuno di loro si è espresso in maniera diversa in maniera personale con tecniche diverse con grande piacere e soddisfazione anche per noi professori i ragazzi hanno cercato comunque di esprimere un po' questo mondo di pace un mondo al quale tutti quanti noi comunque aspiriamo e speriamo che si possa raggiungere al più presto E a Pesaro sta per partire una nuova mostra si chiama Scatti Globali e si terrà da venerdì a Palazzo Gradari Dal 7 all'11 giugno a Pesaro presso il Salone Nobili di Palazzo Gradari si terrà la mostra fotografica Scatti Globali Pesaro oltre i confini nel segno della capitale della cultura infatti Bacciardi Partners ripercorrerà con i visitatori i viaggi vissuti all'estero con l'imprenditoria pesarese alla scoperta dell'internazionalizzazione del territorio Da 50 anni noi operiamo sul territorio e proprio 50 anni fa è nata la spinta all'internazionalizzazione nel nostro territorio Questa spinta è stata davvero stimolata e accompagnata dall'ufficio di Bacciardi Partners e proprio dal suo fondatore l'avvocato Enzo Bacciardi e quindi possiamo testimoniare davvero da quell'epoca fino ad oggi tutto quello che hanno fatto le industrie del nostro territorio e gli imprenditori a fianco ovviamente delle istituzioni e accompagnate da questo personaggio che noi riteniamo molto visionario molto coraggioso che è andato oltre le frontiere insieme a questi uomini, a questi imprenditori Hanno dato vita davvero a un racconto avventuroso e meraviglioso che noi abbiamo cercato di testimoniare non solo con parole raccontando la storia in un evento ma anche con fotografie che fanno vedere tutte queste avventure nei fatti, nel concreto, in paesi esteri di tutti i generi A testimoniare gli incredibili viaggi all'estero narrando di un mondo all'epoca completamente nuovo da scoprire è proprio uno dei protagonisti della storia ovvero l'avvocato Enzo Bacciardi Io ho avuto la fortuna, la circostanza, la fortuna di immettermi nella professione nel momento in cui gli imprenditori del distretto di Pesaro iniziavano il loro percorso di internazionalizzazione e insieme ci siamo incontrati perché loro ovviamente esercitavano attività imprenditoriale io attività professionali avevano bisogno dei nostri servizi dei servizi legali ma non solo perché abbiamo fatto un'assistenza a tutto campo abbiamo assistito nel gestire i contatti nel impostare i contatti e in questo percorso appunto abbiamo attraversato un po' tutto il mondo perché abbiamo iniziato con la Fiera degli Arabi dove il rapporto era con i paesi arabi e in quel momento anche con diversi paesi europei Francia, Germania, Svizzera in particolare poi si è aperto il mercato dell'est la perestroica poi la Cina, poi l'India, poi la Turchia poi il Sud America in America del Nord lavoravamo già prima della perestroica come in alcuni paesi del Maghreb con la Libia abbiamo lavorato molto quindi in questo contesto abbiamo viaggiato insieme e abbiamo esplorato non sapevamo cosa c'era dall'altra parte anche perché in Francia, Germania in America del Nord c'eravamo già stati ma nei paesi dell'est non c'eravamo mai stati in Lidia non c'eravamo mai stati nessuno c'era stato come pure in Cina e quindi abbiamo fatto una conquista come diciamo noi abbiamo fatto un pionierismo siamo andati a vedere per conquistare e concludiamo con un'importante notizia di sport arrivata proprio poche ore fa in redazione è arrivata infatti l'ufficializzazione del nuovo allenatore della VL la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato di aver raggiunto l'accordo su base biennale con Stefano Sacripanti per il ruolo di capo allenatore della prima squadra a Sacripanti viene infatti affidato oltre alla guida tecnica anche la responsabilità dell'area sportiva coach Sacripanti si occuperà quindi anche della costruzione del roster e del coordinamento delle basketball operation per il coach Canturino classe 70 si tratta di un ritorno nella società bianco-rossa dopo l'esperienza vissuta da allenatore tra il 2007 e il 2009 si conclude qui questo nostro spazio informativo serale di Rossini News vi diamo appuntamento a questa sera alle 21 e 20 con l'atteso confronto in diretta tra i quattro candidati a sindaco di Pesaro a partire dalle 21 e 20 li vedete qua schierati in ordine prettamente alfabetico Andrea Biancani per la collezione di centrosinistra Marco Lanzi per quella di centrodestra Fabrizio Liva per la lista civica spazi liberi e Pia Perricci per la lista civica vieni oltre quattro candidati sindaco che saranno incalzati con delle domande con risposte a tempo dal nostro Luigi Benelli non perdetevi questa sera l'appuntamento in diretta a partire dalle 21 e 20 altra diretta è quella consueta del mattino con l'informazione di Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che domani mercoledì 5 giugno sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi ed è invece tutto per questo spazio informativo serale di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito